buongiorno ragazzi ed eccoci qua in un altro unboxing in macchina perché ho da farvi vedere delle cose ragazzi ma delle cose devastanti allora appoggiamo gli occhiali qua sono sì sempre qua in mezzo alla foresta perché oggi guardate un po cosa vi mostrerò forse riconoscerete questo ragazzi la r rockstar games mi ha inviato non un pacco qualsiasi ragazzi ma bensì questo questo qui ragazzi rockstar games un borsone pieno di merchandising pieno di qualsiasi cosa vi faccio soltanto dietro è tutto così raga con anche qui tutti i bottoni è favoloso e qui ragazzi sono pieno zeppo di magliette non potete immaginare quante me ne abbiano mandate quindi iniziamo subito con questa nera perché alcune ero troppo curioso gli ho dato una sbirciatina però non li ho viste molto bene nel dettaglio la prima è questa qua raga completamente nera con la r della rockstar spero che si veda voglio fare una nuova tipologia di unboxing in macchina perché non l'ho visto fare a nessuno tutti sono sempre nella camera in casa io li ho sempre fatti o fuori in mezzo alle panchine vicino ai laghi e in macchina mi mancava quindi siamo in macchina in montagna quindi raga la prima nera con la r della rockstar tanta roba tanta roba vediamo subito la misura e vediamo se mi conoscono bene mi conoscono bene quelli della rockstar mi conoscono veramente benissimo la seconda è questa qua raga con la lametta spettacolare ditemi poi sotto giù nei commenti tra tutte le magliette che vi ho mostrato che vi mostrerò più che altro qual è quella che vi piace di più questa qui alla lametta con dietro il simbolino della rockstar molto pulita molto bella manica corta bianca con il simbolo della rockstar non so se lo riuscirete a vedere forse qua con il riflesso un po difficile ragazzi però questa è bianca con il simbolo della rockstar e poi questa qui è a maniche lunghe lo so già questa l'ho già vista raga mamma mia nel frattempo aria pulita sentite che roba anzi voi non sentirete nulla ma forse il silenzio sentite anche qui ragazzi è favoloso favoloso un like per i miei vlog stratosferici in mezzo alla natura quell'altra ragazzi è questa qua ha maniche lunghe quindi ci può stare tanto a me piace tirare sulle maniche quindi queste maniche qui sono quelle un po corte mi sa quindi le tiri su molto bene qui davanti ragazzi classe del 98 rockstar games con dietro sempre la r veramente belle sono cosa sono in cottone sono molto materiale molto molto leggero quindi ci può stare allora dai vi faccio vedere anche questa perché me l'hanno data sia in rosso ma anche in blu ragazzi quelli della rockstar non scherzano mi hanno dato anche questa qui classe del 98 in blu con le manichette blu devo dire che mi piace un po di più il blu rispetto al rosso guardate che roba mamma mia le indosserò tutte nei video ho appena scoperto che su questa maglietta blu della classe del 98 e anche chiaramente su quella rossa il sotto guardate com'è è tipo fatto a mezza luna è favolosa questa maglietta qua ci tengo a precisare se non sbaglio che tutte queste magliette sono della nuova collezione o comunque una buona parte sono della nuova collezione quindi se siete curiosi andate sul sito della rockstar e andate a vedere nel merchandising e scoprirete di tutto e di più vi si apre un mondo quindi la prossima maglia è questa qui con il simbolo della rockstar mimetico mamma mia cioè mimetico ragazzi diciamo che è un po mimetico alla franklin alla trevor poi qua dietro c'è sempre il loghino e dai questa ci sta questa ci sta un botto bella anche questa bianca poi abbiamo questa qui raga questa qui è della nuovissima collezione guardate che roba mamma mia che bella spettacolare questa qui veramente bella poi abbiamo un'altra anzi no vi faccio vedere questa raga perché mi hanno dato questa qua in bianco e poi c'ho anche chiaramente questa qua in nero ragazzi bababia questa però c'ha il logo verde sto facendo un porcile qua di t-shirt poi un'altra mia preferita ragazzi è questa qua che vi mostro ora che ha il loghino come al solito dietro nero ed è questa qui guardate con la scritta rockstar games papabia tutta così non so come chiamare questa questa grafica qui ragazzi però è veramente tanta tanta roba guardate un po riuscite a vedere mamma mia ma la metto anche addosso così guardate un po le scritte sono proprio qua in alto nel petto spettacolari poi niente c'ho la cinghia per la borsa e poi manca la mia felpa preferi felpa anzi rockstar su enviarmi una felpa l'accetto molto volentieri ma vi mostro una delle mie t-shirt preferite oltre questa qua boom tutta quanta nera ma guardate un po il taschino come è fatto guardate cosa c'è sul taschino ci sono tutti i simboletti della rockstar c'è il pugno c'è la pillola poi cos'è che c'è la saetta il fulmine cioè guardate i dettagli metti a fuoco maledetta camera guardate che bella che è questa magliettina qua con il taschino track tanta roba tanta tanta roba ragazzi quindi mi hanno dato non so nemmeno quante t-shirt ragazzi perché me ne hanno date una vagonata quindi grazie mille rockstar games per inviarmi ogni tot tutte queste cose qui guardate guardate t-shirt che ci sono t-shirt su t-shirt magliette lunghe corte c'è di tutto e di più veramente raga sotto giù nei commenti ditemi qual è la t-shirt che vi è piaciuta di più io mi sa che dopo mi metto questa qua strepitosa bianca anche se io preferisco sia le t-shirt nere però questa qui è tanta tanta roba adesso come al solito vi faccio vedere un po anche il panorama fuori ed eccomi qua fuori così potete guardare un po dove mi sono fermato qui c'è la strada chiaramente mi sono fermato subito qua in una piazzola e guardate un po tutti quanti i colori è uno spettacolo magari vi porto al lago e così potete ammirare tutto quanto qui poi c'è tutta una strada qui c'è un altro piccolo sentierino dove vai su e vai a funghi vai un po dove ti pare quindi vi ho fatto vedere anche raga un po dove mi sono fermato oggi un po tutti quanti i colori ditemi qual è la maglietta che vi è piaciuta di più e ditemi se volete un vlog riguardante la primavera dove vi mostro proprio l'essenza della primavera qua da me io raga vi saluto vi ringrazio vi ricordo di attivare le notifiche con quella campanella quando vi iscrivete al mio canale vi iscrivete subito al canale se non l'avete fatto commentate condividete seguitemi su instagram perché qua dobbiamo crescere il milione deve essere nostro al più presto io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale